Italiano famosissimo che insomma dal loro nuovo album ci fanno che sono un'imperdibile raccolta di successi e qui a generazione X con Ti Sento e Mattia Banzà! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ti sento, la musica si muove appena ma è un mondo che mi scoppia dentro Ti sento, un brivido lungo la schiena, un colpo che fa pieno centro Mi ami o no, mi ami o no, mi ami Che mi resta di te, della mia poesia Mentre l'ombra del sonno, lenta scivola qui Se non hai l'anima Ti sento, bellissima statua sommersa, seduti, straiati, impacciati Ti sento, Atlantide, isola persa, amanti soltanto accennati Mi ami o no, mi ami o no, mi ami o no Ti sento, deserto, lontano miraggio La sabbia che vuole accecarmi Ti sento, nell'aria un amore selvaggio Vorrei incontrarti Vorrei incontrarti Ti sento, vorrei incontrarti Mi ami Grazie 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 Mi diverto come una pazza Ah, una pazza, lo so Ho la fortuna di pazza Queste sono di Gallo Cedrone Sono? Di Gallo Cedrone Ah, Gallo Cedrone Poverino Sì, infatti se fai così senti L'ho conosco, però sono belle Bella E questo è un lavoro che ci permette di poter giocare anche con, chiamiamolo look, con l'immagine Quindi è molto divertente poterlo fare, no? Eh, ce ne siamo accorti che ti diverti Sì, mi diverto moltissimo Eh, ma tu già devo dire che te la capi bene Già da sola, ecco Allora, io vi volevo dire alcune cose di Matteo Bazzar che sono formate nel 1975 Oltre 20 anni di musica a livelli pazzeschi, altissimi E allora, a questo punto devi presentare uno a uno i componenti dei Matti Guarda, lo faccio con grande gioia Molto volentieri E noi partecipiamo La facciamo come in concerto Dai, come in un grande concerto Allora 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 Al basso Aldo Stellita Bravi, bravi Lavora, bravi Bravissimi Allora, attenzione Allora, attenzione Alla batteria Giancarlo Golzi Perfetto Perfetto E poi E poi Alla tastiere Il maestro Sergio Cossu E alle voci Due nostri nuovi acquisti Arrivi Due entrate nuovi Diciamo così Allora Silvia Forgas E Luana Eredia Bravi Bravissimi Ecco qua Il maestro Dopo vent'anni Allora Siete Adesso Incatenati praticamente In che senso? No, nel senso che adesso vi leghiamo tutti quanti Siamo qui? Non si sta poi così male, devo dire Ma che vuol dire Non si sta poi così male? No, no, voglio dire, ci stiamo volentieri Allora ci rimarrai fino alla fine dell'anno Guarda Te manca poco Esatto Allora, esatto No, no, ma già in sicuro Devi rimanere qui Dovete rimanere tutti E cantarci ancora un altro pezzo Così noi balliamo e cantiamo ancora E magari facciamo anche tutte le nostre Ah, applausi Ci vediamo stra pochissimo Non ho mancato Ciao